Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La situazione tra Serena e Roberto purtroppo non è migliorata. Lei continua ad uscire tutte le sere per mettersi in mostra e quando torna a casa continua a litigare con suo marito. Roberto non se la fa più e per una sera decide di uscire anche lui, di fare la vita che sta facendo la sua famosa mogliettina. Così va in un locale, ordina da bere e conosce persone nuove, tra cui una donna che subito gli fa gli occhi dolci. Anche Roberto non regge l'alcol e dopo pochi bicchieri è già ubriaco. Cede all'evanza della donna, flerta con lei e finiscono a letto insieme. Rientra a casa praticamente il mattino seguente e confessa tutto a Serena. Litigano di nuovo animatamente e cerca di giustificarsi dicendo che lei in questo ultimo periodo è distante, non fa altro che uscire e ubriacarsi tutte le sere. Serena sa di aver sbagliato ma non cede alle giustificazioni di Roberto, si infuria e lo caccia via di casa. Roberto prepara le valigie e se ne va. Questa volta non c'è modo di rimediare, la situazione è degenerata e forse un po' di tempo lontani farà bene ad entrambi.